Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Tragico incidente a Fermignano morte due bambine di 6 e 13 anni ferite altre 6 persone in promiosi riservata al fratellino e grave la mamma Schianto a Tavernelle di Serrungarina anziana muore su un colpo schiacciata da un furgone Rapina e riduce in fin di vita un 67enne a Pesaro fermato dai carabinieri un rumeno di 23 anni Maltempo, forte vento e mareggiate in arrivo sulle marche Presentati alla BIT di Milano gli eventi fanesi confermato il carnevale estivo nei primi tre giorni del mese di luglio Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia apriamo il nostro telegiornale con la cronaca due sorelle nigeriane Osana Jennifer e Arianna Sailo di 6 e 13 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 4 a Fermignano all'altezza di Kallagostina Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture la famiglia residente a Sant'Angelo Invado stava percorrendo il tragitto da Urbagna a Fermignano e secondo una prima ricostruzione della dinamica a causa della pioggia la Ford Focus guidata dal padre di tre bambini ha perso il controllo del veicolo invadendo l'altra corsia e andandosi a schiantare contro la Fiat Punto che sopraggiungeva dalla direzione opposta la terza auto coinvolta è un Opel Zafira che stava seguendo la Ford Focus e che non è riuscita ad evitare l'impatto il bambino nigeriano più piccolo di un anno ora si trova in prognosi riservata mentre la mamma che ha riportato la frattura del bacino è stata trasportata in eleambulanza al torrette di Ancona il padre invece ferito in modo lieve è stato ricoverato all'ospedale di Urbino insieme alle persone che si trovavano sulle altre vetture tra le quali un disabile sul posto ai vigili del fuoco di Urbino la polizia stradale per i rilievi di legge il 118 e raggiungere il luogo dell'incidente anche il sindaco Giorgio Cancellieri ancora sangue sulle strade una donna di Saltara Bruna Agostini vedova di 78 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la Flaminia in località Tavernelle di Serrongarina la pensionata era a bordo della sua vettura una di quelle che si guidano senza patente quando un furgone guidato da un albanese con a bordo un connazionale ha perso il controllo del veicolo l'uomo di 40 anni ha urtato sulla destra un moreto ed è finito sulla corsia opposta colpendo in pieno il mezzo della donna l'impatto è stato violentissimo e l'anziana è morta sul colpo sul posto i carabinieri di Saltara i vigili urbani di Serrongarina i pompieri di Fano e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna i due occupanti del camion residenti a Fossombrone al momento sono indagati per omicidio colposo in attesa degli esiti dei test alcolemici e tossicologici ancora cronaca i carabinieri di Pesaro hanno fermato un 23enne romeno indagato per rapina aggravata e lesione ai danni di un uomo di 67 anni che ha ridotto in fin di vita ma sentiamo i dettagli in questo servizio di Lino Balestra Suli Costantin 23 anni rumeno senza fissa dimora né lavoro è stato sottoposto a fermo giudiziario dai carabinieri del nucleo operativo di Pesaro coordinati dal tenente Massimiliano Iori come presunto autore di una efferata rapina con pestaggio avvenuta al parco Miralfiore ai danni di un anziano 67enne di origine romagnole che si trovava di passaggio nella città di Pesaro il 23enne che pare conoscesse molto bene il parco Miralfiore e la posizione delle videocamere porta il 2 febbraio in una zona partata all'uomo e a quel punto scatena tutta la sua furia in un pestaggio selvaggio riducendolo in gravi condizioni a quel punto si impossessa del suo portafoglio e gli porta via bancomat carta di identità e 250 euro in contanti e lo lascia tramortito a terra sarà la stessa vittima a distanza di oltre tre ore dall'aggressione quando riesce a dare l'allarme al 112 dei carabinieri a chiedere soccorso sarà la prima pattuglia a intervenire sul posto a ricevere le prime indicazioni da parte della stessa vittima che saranno poi utili per focalizzare e individuare quindi il presunto responsabile presunto responsabile che questa mattina è comparso davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia ed è stato trattenuto in custodia caudolare proprio per le gravi azioni criminose contestate si tratta di rapina aggravata nei confronti di persona ai danni di persona in condizioni di minorata difesa sia per condizioni di età e per condizioni fisiche e per lesioni gravi il malcapitato 67enne solo nella mattinata di oggi è uscito dal coma a seguito del trauma cranico e delle gravi lesioni che il rapinatore gli ha procurato ma importantissime sono state le sue prime dichiarazioni subito dopo l'aggressione dal momento dell'aggressione quindi appena abbiamo ricevuto la prima notizia i componenti appunto del nucleo operativo radiomobile hanno svolto una incessante attività di ricerca nei luoghi che noi ritenevamo fossero quelli che lo stesso autore frequentasse normalmente e così è arrivato il risultato positivo all'operazione proprio nei pressi della stazione ferroviaria un maresciallo del nucleo operativo ha individuato l'odierno fermato e compreso individuato attraverso un particolare attraverso lo ha riconosciuto per come camminava avevamo naturalmente analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza esistenti presso la stazione ferroviaria di Pesaro e quindi questo particolare non è sfuggito all'investigatore molto bravo e attento e quindi che ci ha permesso poi insieme ad altri elementi di raggiungere questo risultato positivo vento forte mare mosso con possibilità di mareggiate in arrivo sulle marche lo prevede un avviso di condizioni meteo avverse diramato dal centro funzionale regionale della protezione civile valido fino alle 6 di domani mattina inizialmente i venti meridionali soffieranno sulla fascia costiera nel corso della notte ruoteranno da nord ovest con ulteriore intensificazione fino a burrasca interesseranno sia le zone montane che la costa cambiamo argomento per la prima volta alla beat di Milano si è tenuto un incontro per rappresentare tutti gli eventi in programma a Fano durante il periodo estivo mare, carnevale, cucina, musica e lettura sono stati 5 elementi che hanno caratterizzato la conferenza che si è tenuta nello stand della regione Marche confermato il carnevale estivo l'1, il 2 e il 3 luglio il festival jazz che richiama appassionati da ogni parte del mondo ma anche il festival nazionale della saggistica passaggi cui partecipano ospiti di altissimo spessore il festival internazionale del Bordetto che porta a Fano in un periodo di bassa stagione una grande quantità di visitatori ampliando così l'offerta turistica della città la conferenza è stata seguita anche da Fano TV con il nostro direttore Marco Ferri che nei prossimi giorni ci racconterà tutti i particolari domani invece torna la giornata del banco farmaceutico pensate solo nel 2015 i farmaci raccolti hanno aiutato oltre 700 mila persone sul territorio della provincia di Pesarubino sono 40 le farmacie e queste farmacie sono abbinate a 27 enti che sono tutti locali per cui anche tutti i farmaci che vengono raccolti verranno presi la sera stessa o qualche giorno dopo dagli enti a cui sono abbinati per quello che riguarda invece a livello nazionale le farmacie sono quasi 4.000 3.600 e rotti erano nel 2015 e i farmaci raccolti sono oltre 2 milioni di confezioni quindi un'azione che sicuramente può fare del bene alle persone più bisognose il bisogno dei farmaci è in aumento ci sono fasce più deboli che non riescono ad acquistare questi farmaci che non sono chiaramente dispensati dal servizio sanitario e si parla di circa 4,1 milioni di persone che hanno questa necessità che sono sotto la soglia di spesa delle persone normali appuntamento al sabato 13 appuntamento a domani sabato 13 nelle farmacie su tutto il territorio della provincia nella fattispecie qui a Fano abbiamo 5 farmacie che sono abbinate a degli enti che sono qui sul territorio ci sono all'incirca sui 400 volontari coinvolti in tutta la provincia e quindi auspichiamo che domani la gente vada se non altro nelle farmacie che aderiscono a questa iniziativa proprio per donare diciamo un farmaco la moderna medicina specialmente la psicologia dice che il primo farmaco è l'amore questo gesto vuole essere un gesto di attenzione all'altro quindi un gesto di amore verso l'altro per cui partecipare a questo gesto è un gesto di amore e la scorsa settimana il sindaco di Fano Massimo Serra e l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanese avevano annunciato la riqualificazione di via Garibaldi lato monte e del vicolo Gallizzi il progetto verrà presentato alla cittadinanza durante un incontro pubblico che si terrà nella sala del consiglio comunale lunedì 15 febbraio alle ore 21 saranno presenti anche i tecnici comunali e si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la scuola di pace Carlo Urbani arrivata al suo tredicesimo anno di corso al centro pastoreale diocesano a Fano si svolgeranno quattro incontri a partire da sabato 13 febbraio alle ore 16 e 30 per poi continuare il 20 e 27 febbraio e il 5 di marzo ad aprire gli appuntamenti che si baseranno sull'enciclica laudato sì di Papa Francesco sarà Luciano Benini lettore della diocesi ideatore e responsabile della scuola di pace invece nell'ex chiesa di Bellocchi a Fano domenica 14 febbraio alle ore 17 e 30 verrà presentato il libro di Francesco Baldarelli dal titolo Il tempo sospeso interverranno il sindaco Seri Don Giuseppe Cavoli Michele Brocchini Franco Mancinelli con le letture di Marco Florio nel libro Baldarelli ricorda l'orrore di tutte le guerre e l'importanza dei gesti di resistenza fra Bellocchi e Fano un coro di personaggi aspetta la liberazione della città intanto lotta vive, si innamora ascolta la radio e persino balla domenica 14 febbraio che è appunto il giorno di San Valentino nella Basilica di San Paterniano i frati al termine della Santa Missa delle ore 18 impartiranno una benedizione speciale a tutti gli innamorati e con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale fra poco trasmetteremo in diretta il viaggio apostolico di Papa Francesco in Messico grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata a presto città